Pasqua e Pasquetta all'insegna del rispetto delle regole. I bassanesi rispondono con grande senso civico all'appello delle istituzioni e delle forze dell'ordine in merito all'osservanza delle disposizioni di sicurezza. Strade poco trafficate, segnalazioni che si contano sulle dita di una mano e controlli avvenuti senza particolari problematiche. Operativi sulle strade militari della Guardia di Finanza, così come i carabinieri di Bassano che hanno affermato nei due giorni di festa circa 200 veicoli, sanzionando 21 persone. Rispettati anche i divieti d'apertura degli esercizi commerciali. Insomma, il temuto richiamo pasquale alle scampagnate fuori porta è stato dunque scongiurato.